Chi parla è Franco Giusto, storico tifoso del calcio tranese, attuale presidente del città di Trani, realtà che viaggia nelle parti alte della classifica nel campionato di prima categoria. Parole che arrivano all'indomani delle dichiarazioni a telezona di Giuseppe Di Benedetto, patron del Trintapol, il quale ha confermato la volontà di fare calcio in un futuro neanche troppo lontano, proprio a Trani. Unire le forze è possibile, risponde Franco Giusto. Le nostre porte sono aperte, ma ovviamente sono aperte per dei progetti seri. Ti dirò di più, io con Giuseppe, con cui ho un buon rapporto, noi ci siamo incontrati tempo fa per altre questioni, per scambio di alcuni calciatori e già avevamo parlato di questa possibilità. Ovviamente bisogna sedersi a tavolino e vedere un po' come stanno le cose. Quello che io dico è che chiunque voglia venire a Trani a fare calcio deve sapere che il controllo, la gestione economica, amministrativa e finanziaria deve restare sempre nelle nostre mani. Nel frattempo il Città di Trani sta concludendo la sua terza avventura agonistica ed è in lotta per un piazzamento playoff in prima categoria. A breve terminerà il nostro terzo campionato e in soli tre anni siamo passati dalla terza categoria ad effettuare il campionato quest'anno di prima categoria che ci vede attualmente in corsa per poter effettuare un ulteriore salto e sperare di approdare in promozione.